La ventricina del Vastese e le bollicine d'Abruzzo, un matrimonio riuscito verrebbe da dire, senza accelare la sacralità di un'unione che mette insieme sapore e tradizioni. Ventricine e bollicine d'Abruzzo è l'evento che vede la collaborazione dell'Accademia e del Consorzio dei produttori della ventricina del Vastese, l'Enoteca regionale e Legambiente. Il primo appuntamento ce l'avremo proprio con l'arrivo di Goletta il 28 di luglio, faremo un aperitivo a bordo Goletta come lo scorso anno, poi ci sarà l'apertura su Scerni con l'iniziativa vera e propria di ventricina e bollicina, a seguire ci sarà un festival a Fresa Grandinare il 5-6 agosto e poi chiuderemo con il Gran Galà l'1 e il 2 settembre. Un appuntamento importante perché comunque si giungerà anche alla definizione di un disciplinare della ventricina del Vastese e quindi di un modo di qualità di produrre questo prodotto. Quest'anno faremo anche un gemellaggio con due regioni, l'Emilia Romagna per essere vicini a loro, anche per le tristi vicissitudini che ci sono state e la Calabria, sono state scelte queste prime due regioni per una vicinanza culinaria al nostro prodotto. Turismo sostenibile e valorizzazione della cultura rurale. L'iniziativa è giunta alla sua quinta edizione grazie anche al sostegno della regione Abruzzo. Sarà l'occasione per unire anche culture, tra virgolette, enogastronomiche diverse, ma sarà l'occasione anche per scambiare e far conoscere quelle che sono le nostre eccellenze, le nostre identità, la nostra storia, la nostra cultura, legato ovviamente ai prodotti tipici, ai prodotti della nostra terra. E quale miglior occasione da poter sfruttare se non quella di presentare un vino naturale, per dirla come Germano d'Aurelio in arte induccio, come avrebbero fatto i nostri nonni e dal nome inconfondibile sotto alla capanna, da bere rigorosamente, non di certo, con il calice. Il bicchiere giusto l'ho detto più di una volta, è perché il vino in Italia, in tutto il mondo, lo facevamo prima dell'arrivo dei francesi e quindi il calice da noi serve più per la messa che non per il vino. Per quanto mi riguarda il bicchiere è questo, quello che usavano in campagna, quello che si usava nelle trattorie. Magari ne soffrirà, che ne so, la temperatura, però pazienza.